È un percorso dell'anima, del vissuto, dell'intimo, dell'essenza. È una storia dell'io, quella che rappresenta Homo Crucis, che caratterizza tutti i quindici artisti che vedete qui in mostra per noi. Le opere rappresentano un registro documentario e ci danno la possibilità di interpretare, attraverso diverse angolazioni, quella che è la tematica della crucifissione e quindi della passione e della sofferenza di Cristo. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto.